Via libera all'installazione degli impianti solari e fotovoltaici a terra e sui tetti di Firenze, tranne che in area UNESCO, è quanto prevede la variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio. L'obiettivo del provvedimento è accelerare i tempi di transizione energetica verso le fonti rinnovabili sulla spinta dell'aumento dei costi dell'energia. Facciamo tutto questo per ottenere dei risparmi, abbiamo già calcolato almeno 800 mila euro di risparmi sui consumi energetici, ovviamente andiamo avanti con i progetti per gli impianti fotovoltaici e soprattutto per portare avanti una battaglia in Italia e Europa, avere risposte che servono immediatamente, l'abbiamo visto anche con i pellettieri riuniti oggi, c'è bisogno di risposte. Subito noi città da soli facciamo tutto quello che possiamo, come state vedendo, però senza un impegno vero a livello nazionale e internazionale noi rischiamo di mandare in crisi tutte le città del nostro paese e del nostro continente. Il piano energia varato dal Comune prevede anche due misure per limitare i consumi. Il primo punto è lo spegnimento di alcuni lampioni dell'illuminazione pubblica nel 10% del territorio cittadino dal tramonto fino alle 23.15. Sarà garantita in ogni caso l'illuminazione sufficiente per la sicurezza pubblica e stradale. Il secondo è concentrare il venerdì lo smart working di 1.200 dipendenti comunali, non in modo coercitivo ma facendo scegliere ai diretti interessati.